Il 2015 potrebbe essere un anno fondamentale per il nostro pianeta. A Parigi si terrà la COP21, un incontro internazionale in cui si parlerà di cambiamenti climatici e si cercherà un accordo globale per evitarli. L'industrializzazione e scelte di vita poco sostenibili hanno portato a dei mutamenti nel nostro clima e modificare il clima in maniera da pregiudicare il nostro futuro è molto rischioso. Attualmente il pianeta Terra sta andando verso un riscaldamento medio di oltre 4 gradi. Questi sono gli scenari che prospetta l'IPCC. Oltre all'inalzamento di temperatura ci potranno essere effetti sulla desertificazione, sulla perdita di biodiversità, ci potranno essere effetti ovviamente anche sulla produzione di cibo, quindi sull'agricoltura, cosa che potrà portare a masse di migranti ancora più consistenti di quelle attuali. Lunedì alla Camera dei Deputati sarà in discussione la nostra mozione sui cambiamenti climatici e vi chiediamo di seguire la discussione, seguirci e noi vi terremo aggiornati su quali saranno le decisioni. La situazione climatica mondiale è preoccupante. Noi chiediamo a questo governo l'impegno a portare avanti i negoziati a Parigi in maniera seria e responsabile e consapevole della gravità della situazione.